150 fortunati e privilegiati tifosi nerazzurri hanno potuto quest'oggi allo stadio Giuseppe Meazza dopo la conferenza stampa di presentazione di Stevan Jovetic incontrare il campione nerazzurro per una foto ed un autografo. Neo abbonati allo stadio o iscritti agli interclub i 150 hanno vissuto un pomeriggio unico. All'interno di una delle sky lounge dello stadio loro riservata per quest'oggi hanno tutti fatto una foto con il disponibilissimo Stevan accompagnato da Deki Stankovic anche lui acclamatissimo. Essere abbonati allo stadio o iscritti all'interclub può anche regalare opportunità ai giornate bellissime e indimenticabili come quella odierna e dopo tante foto strette di mano selfie e foto ufficiali tutti seduti sugli spalti del Meazza per un saluto finale a Stevan antipasto di quello che accadrà con la voce però di un intero stadio domenica sera.